Eccoci con Giovanni Matera, con la sua cassetta degli attrezzi. Giovanni Matera imprenditore, titolare di Matera Arredamenti, ma grosso esperto di marketing, di corsi di formazione. Partiamo da questa cassetta degli attrezzi, da questa pubblicazione per sviscerare vari argomenti. Quest'oggi ci occupiamo di un capitolo che mi ha colpito, il diritto all'errore e il titolo. Non vediamo le cose come sono, le vediamo come siamo, si legge nel Talmud. Quando decidiamo, elaboriamo come un computer, abbiamo una quantità infinita di informazioni presenti e passate, depositate nel nostro cervello e in base a quelle informazioni prendiamo le nostre decisioni. Parliamo di questo diritto all'errore. Cosa si intende? Io forse farei proprio un esempio per chiarire ancora meglio, perché già hai letto perfettamente, già lo dice chiaramente. Come se noi siamo in tre, io, te, il cameraman. Noi vediamo tre scene diverse, ma la vera realtà della scena non la vede nessuno. Ognuno vediamo la nostra scena reale. Io faccio questo esempio. Dalla nostra angolazione. Dalla nostra angolazione, secondo il veritaggio culturale nostro, secondo quel software che noi abbiamo nel cervello, nell'inconscio, secondo quelle che sono le nostre nozioni che abbiamo acquisite, incamerate negli anni. Faccio un esempio per esempio. Un'azienda di scarpe inviò un suo rappresentante, un suo venditore su un'isola, c'era la possibilità di poter vendere scarpe. Questo arrivò, sbarcò sull'isola e vede che nessuno portava scarpe, erano tutti scalzi. Lui si rammaricò un po' di questo, chiamò in azienda e dice guarda qua non c'è possibilità di vendere scarpe perché nessuno usa le scarpe, le scarpe non le usano proprio. Dopo un mese però l'imprenditore, in quanto imprenditore non si arrendono mai, manda un altro venditore. Questo qua ha la stessa scena, vede le persone senza scarpe, fa la telefonata all'imprenditore e dice vedi cerchi di aumentare la produzione perché qua c'è un macello da fare. Sta da vendere le scarpe a tutte le persone che vivono sull'isola perché loro non hanno le scarpe. L'approccio diverso. Quindi cosa è successo? Non è che quello l'ha fatto apposta, non vuole vendere le scarpe, ma secondo il suo modo di vedere, lui ha visto quella scena e secondo lui l'ha elaborata secondo la sua cultura. L'altro invece l'ha elaborata in un'altra maniera, eppure l'isola era quella, le persone sono sempre quelle. E quindi ecco il diritto all'errore che fai, lo punisci quel venditore, ma non l'ha fatto apposta. Guardate, tutti noi le persone se possiamo fare bene una cosa la facciamo. Quando non riusciamo a farcela perché c'è un'incapacità, un'incomprensione, il nostro mondo culturale che non ci fa fare quella cosa. L'altro giorno mi è successo anche… Però dicendo il diritto all'errore vuole indicare anche una certa tolleranza, comprensione verso un errore. Quell'operatore, quel venditore che si scoraggiò nel vedere tutti i scalzi commisse un errore, ma lo faceva come… ha sbagliato, come suo limite. Il suo messaggio è quello di vendere. E quindi concediamo questo beneficio, questo diritto all'errore. Lui ha perso anche la provvigione. E appunto. E mica sicuramente aveva pure lui moglie e famiglia. Però questa cosa grave succede anche nell'ambito scolastico. Adesso per esempio le famiglie in primis vogliono la pagella da tutte 9 e 10 dal figlio e quindi il figlio nell'ambito scolastico non viene educato all'errore. Che posso anche sbagliare, posso dire anche una cosa fuori da quello che è il programma scolastico. Non fa niente, ripete, ripetelo, rifallo. No, se uno, un ragazzo va all'interrogazione e non prende 9 e 10 e va appena a una sofficienza, succede una tragedia nell'ambito scolastico, nell'ambito va incoraggiato magari il ragazzo, ma non va quasi punito perché non ha preso il 9 e 10. Così come magari quei genitori che presi, che vedono i vari campioni di calcio e pretendono che magari il proprio figlio uno già da piccolo diventi il nuovo Messi, il nuovo Cristiano Ronaldo. Invece va considerato anche l'errore come momento di crescita. Esatto. Poi va detto che magari questo ragazzo non ti prenderà 9 e 10, magari ha altre qualità che poi non si vanno a scoprire. Qua torniamo al discorso dell'imprenditorialità che non si insegna nelle scuole. Magari quel ragazzo ha delle doti, ha delle scintille, ha delle cose che vanno anche quelle potenziate, ma se lui dice qualcosa che non è in linea con il programma scolastico viene addirittura bocciato. Ma i ragazzi adesso, alcuni ragazzi sono anche furbi, ma però ahimè a danno loro. Nel senso che io ascolto la lezione in classe, imparo bene la lezione, capisco quello che l'insegnante vuole sentirsi dire, centro la lezione in modo che l'insegnante si sente dire quello che lei vuole ascoltare da me e prendo 9 e 10. Ma in questo caso cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato delle persone che nella vita asseconderanno quello che dice il caporeparto, quello che dice l'imprenditore e quindi il concetto che passa dell'eterio è faccio quello che dice il capo e farò carire.